salve a tutti ciao buonasera buongiorno buon pomeriggio siamo qui come potete vedere su the sims 4 e in questo bel panorama innevato perché è inverno il primo giorno di inverno è nuvoloso e gelito e c'è la probabilità di neve però abbiamo la piscina questa è la nostra casa molto bella che l'esterno non ho fatto io l'interno più o meno adesso vi faccio vedere un po allora qua c'è la sala vago con un bel po di cose divertenti da fare poi qui c'è il bagno qui c'è la cucina il soggiorno e qui c'è il famosissimo sala di gaming se si salgono le scale c'è la camera di giuseppe edo qua l'altro bagno la camera di alessandra e la mia fama perché io sono da sola perché gli spari bene noi adesso siamo tutti qui carucci carucci che stiamo socializzando perché sì eccoci qui e siamo tutti vestiti da inverno bene quindi socializzato un po ok bene io direi che possiamo andare edo a lavorare perché mi sembra giusto anzi è domenica e loro vanno tutte al liceo tranne l'era che va alle elementari cioè alle medie quindi devono fare i compiti prima di lavorare giusto e già di lavorare quindi adesso vi metto qui a fare tutti i compiti carucci carucci quindi edo viene qua e fa i compiti gli altri se ne vanno su perché gli altri se ne vanno qua quindi giuseppe su questa scrivania perché i compiti vanno fatti ragazzi e alessandra se ne va sto facendo se ne va sulla sua scrivania in camera la sua e io nella mia ma aiuto ma aiuto fai compiti e e che era una grava scrivania perché è sfigata la mia con qui con edo perché così edo l'aiuto che mi è venuta la voce loca manuale di compiti per fai compiti questo cos'è auricolari neri andassi quello è una delle auricolari non si sa neanche però dai venite a fare tutti i compiti bene 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 poi qua abbiamo una bacheca dove ci sono tutti i programmi dei video fantastico quindi oggi è una bella domenica non devo fare niente tutti i compiti faccio vedere un po' i tratti a lui ci sono quelli di enero e l'alessandra sono aspettate che qua abbiamo fatto una cosa allegra e buona e attraente vabbè a caso questi i miei sono creativa schifintosa sono in casa ok quelli giuseppe sono allegra attivo il metabolismo elevato e quelli ti vedo sono mazzini 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 smalettone genio me lo c'è di fare mamma mia tu hai i tratti più belli io schifintosa perché avete la lo stero acceso siete sul divano a fare i compiti spiegatemi lo c'è ho capito che volete stare con state finendo i compiti allora magari ma allora io basta io mi tolgo tutti tutti gli sterei tra un po' c'è non è che c'è tutto davanti della musica allora edo che ha finito i compiti cioè in realtà ne hanno finito i compiti prende me vabbè fantastico edo andrà a fare un gioco arcade con giuseppe no non fai pasticci che poi non sa perché viviamo tutti insieme poi alessandra viene a cucinare perchè qua abbiamo fame c'è sei mezzogiorno quindi cucina poi mangio brillato poi mangio festa bene 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 direi che mangiano oppure no no dai non mangiano però lo facciamo cucinare poi fanno un attimo quello che devono fare poi andiamo al voli vediamo se ce l'ho c'è non io ho bisogno di divertimento allora scendo e guarderà il canale attuale con me state bene guarda perché no allora c'è dove ti fai quello che mi dico io non ho capito c'è il senso bello vabbè vabbè cosa alessandra non incendia tutto vabbè edo non c'è che sta facendo niente no dai che sta facendo a lui no gioco un gioco arcade ballo allora da quando ti piace la musica io non lo so mi sembra piaciuto ma quanto ci metti non è che ne vao di osserviamo osserviamo il sangue che non sa cucinare stava bruciando tutto bene mettilo in frigo adesso smettete tutti di fare quello che state facendo grazie pericolo e uscite di casa vedete tutti qui scusate se va un po' così a scatti però e poi se non mi so muovere però visto che devo registrare devo tenere lo schermo devo tenere il sims in modalità finestra ed è molto più piccolo di quando è in modalità schermo intero sì invece se no non mi registra quindi eccoci tornati bene 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 allora Irene farai farai viaggia con tutti quanti vai ok quindi tutti vengono con te e no ma va e se ne stanno mettendo in casa e qui ho messo questo bullying over lanes bullying l'ho messo dalla galleria quindi cercate che lo volete ci vedete velocemente e poi però ci vedrete giocare a bullying nel prossimo episodio se vi piacerà questo mi spoliciate bene eccolo qui bello bellino ok allora voi siete tutti in un gruppo yes allora Irene guida il gruppo come sempre dentro eccolo allora sono le 13.52 e avete un po' fame però io direi no io direi di mangiare e poi il bullying ci giochiamo nella prossima puntata quindi scegliete un bar direi quello più bello e vi sedete tutti qui ma magari c'è se fosse qualcuno al bar c'è nel senso è questa è questa è questa no no bene non c'è nessuno che mi possa cioè che mi possa far da mangiare qui si qui si qui si oh c'è il jukebox raga dai venite tutti qua siete ok e ordiniamo allora ordinando il cibo e facciamo prendi le patatine ma non solo tu oh beh sì no si dai quindi adesso quindi Irene si prende le patatine poi tu prendi le patatine e si prende i panini perché non esistono nient'anno stai mangiando ora cosa prende prezzel e Elena prende non può prenderlo fantastico allora si mangia i tuoi panini perché ne hai fatti tanti dove è lei prende il cibo anche lei spettate questo dove è andato lui dove sei perché ma fai andare via questo no vabbè tu hai dei problemi e non vuoi mangiare va bene io ti ho dato la possibilità di mangiare tu non mangi bene 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 questa qua chi è morgan flies bene ragazzi allora per questo episodio è durato molto quindi il dire è anche basta insomma e loro sono qui ansiosi di giocare a bullying siete anche voi ansiosi di vedere loro che giocano a bullying mettete like perché ha 12 like faremo il secondo episodio dove loro giochiamo a bullying quindi è tutto vedo è tutto ci vediamo ciao ciao io sono sentito qua non ci sono inutile inutile